Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati su Fallout Shelter Abbiamo qualche problemino a livello di acqua, ma nulla di troppo grave Ho deciso di impostare l'audio abbastanza basso per evitare di fare una sorta di wallthrough così piatto Il livello dell'acqua purificata è basso ma si rialzerà a breve Intanto è tornata Jane dalla zona contaminata portando armi per tutti e 2500 tappi Direi una bella presa, quindi andiamo su a 3700 che è una base abbastanza solida Riscattiamo questi 100 e anche questi 200 e questo no, lo cancelliamo perché è troppo lungo da fare E teniamo questi obiettivi, siamo a 4000 tappi, molto molto bene Allora la mia idea è quella di ampliare per quanto riguarda l'impianto di depurazione Solo che non so, non so, mi tocca fare un altro piano Oppure metterlo vicino alla scuola atletica Perché sinceramente non penso di fare un'altra scuola atletica Però non si sa mai, quindi preferisco appunto rimuovere questa roccia Fare un ascensore Metterlo qui E costruire un depuratore d'acqua Perfetto In questo modo si riuscirà a produrre Si riuscirà a depurare acqua più rapidamente Tu sei un livello 1 con forza 7 Direi che torni a lavorare magari qua Lui è quello più basso, lui è bassissimo Come forza Quindi mettiamo la tuta del vault Che non la trovo E ti mandiamo a lavorare nella palestra È una volta da aumentare i punti Dobbiamo mandare qualcuno qua sotto però A depurare acqua perché altrimenti ha poco senso Ti rimuoviamo un po' di rocce che creano un po' di disagi Clinica, clinica dovrebbe andare abbastanza bene Scusatemi ragazzi se non sto benissimo in questi giorni Sono stato in ospedale qualche giorno fa Non sono proprio al 100% Quindi perdonatemi se non sarò super coinvolgente Ma sto facendo questo video proprio perché avevo un po' voglia di giocare Distrarmi un attimino Il mio consiglio appunto è quello di creare delle stanze a 3 Come ormai vi dicono tutti Io creerei anche un altro generatore Lo metterei qua Ampliamo Perfetto Adesso però c'è bisogno di fare qualche figlio letto Quindi cominciamo a far accoppiare le persone che hanno 5 di forza Tu di forza hai 4 Tu di forza hai niente Sì dobbiamo far accoppiare qualche Ecco Tu Che sei messa abbastanza bene E un uomo con la forza alta Da lui Assolutamente Lui ha 8 di forza No 7 Molto bene Mettiamo delle vesti Così velocizziamo un po' Le cose Perfetto Ho sbagliato Ok Così tutti hanno delle vesti E si lavora un pochettino meglio Ovviamente se non imposto le vesti sbagliate Perfetto Tu cosa ci fai qua? Ah tu sei quella tornata dal bolt E direi che ti faccio allenare un po' Per quanto riguarda Per quanto riguarda l'armeria Vedo se siete tutti armati Allora loro due hanno già fatto un figlio Cavolo Allora vai su tu Se tu torni giù E tu vai su Siete tutti armati Che l'importante è che siate tutti armati Così in caso di un attacco Ricordatevi ragazzi di armare tutti Anche se è un'arma scarsa Armate tutti Il livello dell'acqua depurata si è sistemato Qua mi servirebbero due persone Appunto in grado Di Di produrre energia Che sarebbero loro due Tu appena diventi forza 5 Quindi fra 4 ore Cominciai sto operativo Tu hai forza 2 Ancora ne hai un po' di lavoro da fare Ok il primo figlio viene fuori qua Mi servono 2-3 figli Con un po' di Di forza Quindi magari loro due Che poi va bene alla fine posso farli accoppiare semplicemente E dopo li faccio allenare nel Nella palestra Cioè quello non è un problema grave Quindi mi sa che adesso Porto qualcuno qui Cioè prendo qualcuno che ha Percezione elevata E li faccio Li faccio riprodurre Tutti Devi avere assolutamente un'arma Perché altrimenti Sei inutile Vediamo se c'è qualche veste per Per loro che sono Cioè visto che comunque Jane è tornata Magari ha qualcosa di interessante Magari ha qualcosa di interessante da darmi Mi serve appunto qualcuno qui Quindi devo fare almeno 2-3 figli Ma qualcosina di più anche Tanto ci sono 36 persone qua Facciamo così dai Così ce ne stanno Tante 42 Perfetto 42 persone direi che è perfetto Ah ovviamente si sono Ecco esatto Dovevate girarvi ragazzi miei Esattamente Cioè per me potete fare anche Non so Qualche accoppiata gay E lesbia Però nel senso non penso Nasca un bambino E quindi è un problema A me qui sinceramente Non si parla tanto di amore E questioni morali Ma di fare figli Perfetto Quindi dobbiamo semplicemente Attendere un po' Ma i bambini nasceranno Allora mancano un po' di persone Un po' di persone Qui nella sezione centrale Nell'impianto energetico Perché ormai l'ho espanso Però dovremmo ovviare al problema Tra non molto tempo Perché loro due Tra qualche ora Dovrebbero essere pronti Dovrebbero essere pronti A livello di punti Per lavorare Devo assolutamente Fare un giro Per armare tutti Il mio consiglio ragazzi In caso vi dovesse mancare L'acqua come me In questo momento Che adesso non mi manca Però prima si Quindi Si dovessero Infettare tutti Con le radiazioni Se ricevete attacchi Di predoni Allora curate Altrimenti Tenete semplicemente Il livello dell'acqua Alto Così non rischiate Di farli morire tutti Perfetto Direi molto Molto perfetto Qui siamo in 6 Ed è giusto Qui siamo in 4 4 5 6 Perché mi pare Che ce ne siano Anche 2 qui Esatto Quindi siamo 6 6 2 Qui vabbè Non è importante Qui siamo in 4 Qui dobbiamo essere in 4 E qui in 2 Quindi in poche parole Mi servono 4 figli 1 2 3 Me ne serve Un altro Me ne serve Un altro E direi Che possiamo fare Eh dobbiamo aspettare Perché non abbiamo Abbastanza alloggi Mi pare Ah no Invece si Ci stanno Quindi tu E E E tu Sta diventando Un bordello Non Non un volt Questo Eh ma qui c'è qualche problema A livello di accoppiate Ragazzi Ragazzi Allora Visto che Mi sa che qui c'è qualche problemino Di base O c'è C'è qualche Interesse A livello Sì ma questo è A me è un uomo William Sarebbe un uomo Sto cosa Ok Mi fido Mi fido Abbiamo un umore Molto basso Proprio perché L'acqua Non è stata purificata Ma ora Comunque Come vedete Tutto nella norma Adesso facciamo salire bene l'acqua Ma andiamo a lavorare Loro due qua Nell'impianto energetico Che lo miglioriamo Già adesso Così servono due persone E andiamo ad ampliare L'impianto C'è l'impianto Di depurazione Di qui E l'impianto La stazione energetica Da qui Qui facciamo Altre mense Così Il cibo si sistema Qui vabbè La zona diciamo Palestra E cose varie Ma Va benissimo così Cioè Anche se le metto Un po' staccate Non è un problema Io direi Di cominciare A mettere giù Un'altra clinica Sì Direi di mettere Un'altra clinica Che è più indietro Centro medico Centro medico Potenziamo Perfetto Ora però Mi servono Altri due figli Con un'intelligenza Non dico Eh no Neanche troppo alta Alla fine Mi bastano figli normali Perché Metterò dei camici Metterò i camici Da laboratorio Che alzano Di tantissimo Il valore Dell'intelligenza Ok Abbiamo il primo figlio Che ovviamente Nascerà fra un po' Tu torni a lavorare Qui Tu torni a lavorare Qui Questi qui Ci stanno mettendo 37 anni Però è giusto Così Almeno fa un po' Più Un po' Più filosofico Ci servono urgentemente Persone qua Solo che lui Ha il valore Della Della forza Troppo basso Per farlo cominciare A lavorare Bisogna almeno Aspettare Che vada Almeno a 4 A 2 È bassissimo Però vabbè Adesso si stiamo Perché lui comunque Ha forza 7 Che è Abbastanza alto Non posso Non posso metterci niente Però comunque Forza 7 È alto Ed è impegnato E lei Ha forza 4 E sono impegnati Per quello Non riesco a produrre Abbastanza energia Per tutto il volto Altrimenti Non ci sarebbero Grossi problemi Direi che adesso Abbiamo uno di tutto Quindi adesso Non si deve più Cioè una stanza Di ogni genere Quindi non dobbiamo più Continuare ad andare in giù Ma basta cominciare A farli in lato Cioè se mi serve Una sezione di energia La metto qua Se mi serve una mensa La metto qua Se mi serve Una sezione di depurazione La metto qui Se mi serve Un laboratorio qua La clinica qua E così via Quindi adesso Comunque nei prossimi Nei prossimi Poi cominciamo a mettere giù Bene bene le cose Qui direi di sprintare Perfetto Abbiamo rischiato Ma ogni tanto Ne vale la pena Perché altrimenti Non possono fare i figli Loro se non c'è energia E questo è un problema grave Ed è che aspettiamo Che loro Facciano il loro lavoro Perché altrimenti Qua Li guardiamo per 17 ore Perfetto Ecco la prima coppia Che si mette a lavoro Appunto Per fare Il secondo figlio Mi pare Così dovremmo arrivare A 37 abitanti Quindi 4 bambini E ne metterei Due qua E due qua Dopo magari piano piano Li alterno E li metto un po' Nella clinica Per produrre un po' Più di steam pack Però adesso Non ho questo Non ho questo Bisogno eccessivo Di creare steam pack E rada away Quindi ora come ora Va bene così Rimandiamo Loro due qua sotto Così si torna a lavorare Non dico a pieno regime Ma quasi Aspettiamo anche loro adesso Manca l'ultima coppia ragazzi Ma questa qui direi Che la aspettiamo Senza troppi problemi Allora Riscattiamo I 150 danari E il prossimo obiettivo È quello di mandare 4 abitanti Nella zona contaminata Mi interesserebbe Unire 5 paia A distanze Però ora come ora Non posso ancora Devo mandare All'esterno La tipa Con Con Il fatman Devo già Rimandarla fuori Perché dovrei avere Sempre qualcuno fuori In modo tale Da riuscire Eccola qua Ti mandiamo fuori Buon viaggio Ovviamente Le diamo tutto Quello che abbiamo Così resiste Più a lungo possibile E adesso Siamo totalmente Scoperti Quindi se dovesse Allora arrivare Un attacco di predogno Qualcosa del genere Mi sa che Finiamo nella merda Direi proprio di sì Buon viaggio Vediamo Ah cazzo È finita l'energia Sprintiamo Oh questo è un problema Vabbè L'incendio Dai Mando altre due persone In supporto E dovremmo riuscire A spegnerlo Perfetto Perfetto Qui ovviamente Se è una stanza Da quattro Massimo Sono quattro Le persone Che Che possono aiutarci Nel rispondere L'incendio Non ho Stimpa Quindi o lo spengono In tempo O mi muoiono Tutti e quattro Perfetto 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 Molto molto bene E il problema È che non si produce Abbastanza energia Però comunque Mancano otto secondi Non si produce Abbastanza energia Perché Devo aspettare Che lui salga Un attimino Così lo mando Qua sotto Perché qui ci mettono Cinque minuti È decisamente Troppo C'è cinque minuti È tantissimo E qua ce ne mettono Quattro Però ne manca uno Perché qui Si può arrivare A sei persone Ah no È lui Ok perfetto 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 Bisogna semplicemente Aspettare un po' Così rimandiamo Lei qui Lei qui a lavorare E lui Qua sotto William Anche se ha solamente Forza 4 Non 5 Però nel senso Ci dobbiamo accontentare Perché altrimenti Non ne usciamo vivi Appena è uscito Ha trovato una pistola Migliorata Subito Perfetto Livello 42 Lei davvero ha un livello Molto molto alto Penso sia il più alto Ma con distacco Anzi Sì sì 42 A 20 livelli Più degli altri Volt Comunque che Procede abbastanza bene A parte la felicità Ma è dovuta al fatto Che non l'ho tenuto D'occhio E quindi il livello Dell'acqua Depurata Mi è sceso Sotto il limite Minimo Non per Per altre ragioni Ora aspettiamo Che nascono i bambini Li facciamo allenare Nella palestra Appena sono adulti E li mettiamo Sotto a lavorare Così Risistemiamo anche Il valore Dell'energia Che comunque Si risistemrà da solo Tra un po' Perché in questo volt qua Se lo lascio spento Se non entro per un po' I valori Cioè le risorse Scendono sotto il limite Invece sul mio Sul telefono No Perché sono messo giù Molto meglio Devo arrivare A fare una cosa Di questo tipo Cioè di quel tipo Anche qua Ma penso proprio Che ce la farò E solo questo Era un attimo Di tempo Ma comunque Ce la dovrei fare Sì sì Penso proprio di sì E ragazzi Niente Io vi lascio Con l'autor Del video Perché finalmente Ho un autore Anche io E guardate Fatemi sapere Cosa ne pensate Vi invito a lasciare Un mi piace Un commento Se siete arrivati Fin qua E avete seguito Tutti gli episodi Vuol dire comunque Che siete dei piccoli Appassionati Di Fallout Shelter E che insomma Ci stiamo aiutando Tutti a vicenda Su come andare avanti Tanti mi dicono Ho seguito I tuoi video E adesso il mio Volte Ha messo molto meglio Ora io dico Lasciamo stare Il 9% Perché generalmente Comunque è sempre Altissima la percentuale Di felicità del Volte Perché appunto Se non lo tieni d'occhio Un attimo Risca che ti scende Però sono contento Che riesco ad aiutare qualcuno In Italia Siamo pochi A fare Fallout Shelter E aggiungere anche Per fortuna Ogni tanto Qualchi video Non vi piacciono Altri sì Però non penso Sia un problema Noi comunque Ci vediamo domani Con un nuovo video Da Piazza è tutto Un saluto Ciao ciao ragazzi Vi lascio all'auto Del video Un saluto 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 Un saluto